Che derby sensazionale quello tra il San Gregorio e l'Aquila. Vincono il Rosso Blu in rimonta sul risultato di 2-4, ma la pratica è stata tutt'altro che facile. Il San Gregorio ha dato non poco filo da torcere ai Rosso Blu, facendo un primo tempo da grande squadra, chiudendo ogni spazio all'Aquila e attaccando con organizzazione. Alla fine però il club del capoluogo si sveglia nella ripresa, ribaltando completamente il risultato e conservando saldamente la prima posizione. Tradizionale 4-4-2 è il modulo scelto dal tecnico del San Gregorio Roberto De Angelis, in campo i ex Lolli, Gizzi e Carice, Arciprete invece parte dalla panchina, in avanti Menegussi e Fonti. In casa l'Aquila Maisto, Catalli e Lex Campania stringono i denti, la selva no, 4-3-3 con il Campania e il Pescinese a supporto di De Angelis. Dopo 30 secondi la prima conclusione, Zanon pesca De Angelis, botta il volo dalla distanza, nessun problema per Di Casimiro. Tuttavia a passare in vantaggio è il San Gregorio, 15esimo, Menegussi è devastante sulla sinistra, salta due avversari e va al tiro. Sinopoli non riesce a respingere e si lascia beffare. 19esimo ancora il brasiliano protagonista, stavolta il portiere calabrese si salva in corner, ma dallo stesso calcio d'angolo un minuto dopo arriverà a doppio. Perfetta la pennellata di Lennart, altrettanto l'incornata ai Ricci che centra il bersaglio grosso. L'Aquila che risponde al 28esimo con la botta al volo di Campania, sfera sul fondo. Rosso-Blu propositivi al 32esimo con Catalli, ma Ricci ancora una volta sontuoso in fase di copertura e chiude con prontezza. 38esimo, l'Aquila vicina ad accorciare dopo un battere e batte in aria, Maisto non riesce a concludere, ci prova Catalli, traversa. Con le immagini di Sergio Marzola passiamo alla ripresa. Cappellacci getta nella mischia la selva che va a sostituire da Mico, cambio che sortisce gli effetti sperati. Dopo due minuti infatti i rosso-blu accorciano, lo stesso la selva si accentra e serve sulla destra Maisto, il cross del Campania in aria, trova la testa di Catalli che fredda di Casimiro. Missione parità completa dal quarto, lancio di De Angelis a pescare Maisto, il bomber rosso-blu non si lascia impensierire dalla fretta e trova il guizzo giusto per il 2-2 di giornata. Minuto 17, l'Aquila la ribalta, lancio di Catalli per la selva sulla sinistra, cross in mezzo per Maisto che facile facile la butta dentro. Per tornare in carreggiata al 19esimo, De Angelis frutta la carta arciprete che entra al posto di Lolli. Al 33esimo ci prova di nuovo il San Gregorio, cross di Nani dalla destra, Menecus in girata non trova il bersaglio. San Gregorio che resta in 10 dopo un fallo di Ricci su Catalli, giallo per il 6 che essendo stato già ammonito finisce la gara prematuramente. Al 39esimo Pizzola si divora il gol del possibile 2-4 non riuscendo a intercettare il traversone di Maisto. Alla fine, al 44esimo, i giochi vengono chiusi dal destro di Dinorcia che concredenza in rete un contropiede rosso-blu. Questa l'ultima emozione del match. Di seguito spazio al post-gara. Sapevamo di essere al cospetto di una squadra fortissima, però faccio i complimenti ai miei ragazzi che hanno fatto veramente una partita encomiabile. Primo tempo perfetto, come dicevamo. Poi purtroppo quando rientriamo in campo non è la prima volta, i primi 10 minuti l'Aquila ha fatto entrare la selva. Forse quella è stata la mossa vincente, ha scombustolato un po' i nostri piani. Non siamo stati pronti subito a stare addosso agli avversari. Quindi c'è stato quell'1-2 che ci ha tagliato le gambe perché è chiaro 2-2 la partita ancora era viva. Però è chiaro, una squadra come l'Aquila, chapeau, come dicono i francesi, non possiamo che fargli i complimenti e augurargli tutto il bene possibile. Il primo tempo non è stato un primo tempo fatto male. Diciamo che loro sono stati bravi a chiuderci molti spazi. Avevamo delle cose diverse a centrocampo, quindi anche le nostre giocate venivano un po' meno. Però loro hanno fatto male da loro e hanno fatto un grandissimo primo tempo. Hanno retto molto bene l'urto. Poi loro sono venuti giù, con un tiro e mezzo in porta hanno fatto due gol e si sono trovati in vantaggio. Però non è che il primo tempo è stato fatto malissimo, assolutamente. Non ci scordiamo che questa è una squadra che due anni fa, no 20, il Giulianova venne qua. Il Giulianova dei Fuschi, del Grosso, del Alessandro, del Di Paolo, dei Tozzi-Borsoi venne qua due anni fa e ci prese quattro gol. Quindi diamo anche dei meriti a una squadra che oggi sotto di due gol non ha perso mai la testa. Siamo entrati dentro lo spadoio convinti che potevamo ribaltarla. E poi siamo anche stati fortunati di fare due gol nei primi quattro minuti, quello sì. Però sicuramente la squadra ha ampiamente meritato la vittoria. Sicuramente siamo contenti della vittoria perché siamo partiti un po' male su due episodi a sfavore. Poi siamo stati bravi a recuperarla e alla fine portare a casa la vittoria che per noi era fondamentale perché guardando anche quelle sotto di noi hanno perso, quindi ci fa allungare a loro. Grazie a tutti.